Siamo quasi pronti per partire con Feel Good! Ma, scusa Edo, cos'è Feel Good? Ma cos'è Feel Good? Lo facciamo assieme! Allora, Feel Good è il format di cui c'è bisogno in questo momento storico super difficile per tutti. Praticamente prendiamo tre persone e le rimettiamo in forma totalmente a livello psico-fisico a 360 gradi. Diverso da quello che c'è in giro finora, no? Assolutamente sì, anche perché io e Edo saremo presenti e cercheremo di motivarli, di gasarli, di spronarli, di fare tutte le attività con loro insieme. Potresti farli anche da casa con loro, capito? Cioè, già questo è un motivo per seguirci, no? Assolutamente, inoltre vi faremo fare delle esperienze super fighe, super top. I primi tre challenge li abbiamo già scelti. E gli altri? Saranno loro. Loro? Certo, saranno loro! Sarete voi, quindi Feel Good! Sarete voi, sì, 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 sì.